Ciao a tutti, io sono Catalina e benvenuti in questo nuovo video. In questo video vi farò vedere la mia giornata di sabato e la mia giornata di domenica a pista. Vi lascio il mio profilo di Instagram qua di lato e niente, iniziamo col video! Direi che è da lavare. Direzione andare a lavare la moto che domani mattina si va in pista e si fa il motocross. Allora, siamo arrivati. In attesa. Non so, saranno passati tipo 10 minuti e questo qua continua a mettere gettoni su gettoni, ma la macchina rimane sempre pulita come prima. Aspettiamo. Scarichiamo la moto e laviamola. Ma te sei fuori di testa! Guarda lì. Qua c'è il risultato. Quello che avete visto prima nelle riprese è un mio amico che si è presentato, che gli avevo chiesto se il mio compagno va a lavare la moto, ma non riusciva poi invece si è presentato lì. Scrivo, vedendo che mi dite. Scrivo, vediamo. e let's go come the money here we go money talk come the money 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 dollar 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 inter-ching bling bling touch of chatter you ain't fucking money 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 E niente, durante il viaggio del ritorno non sono riuscita a fare delle riprese perché il mio amico mentre mi piaceva le clip mentre lavavo la moto mi si è scorato il mio telefono in tasca e niente, sono andato via col mio telefono Allora, mentre eravamo lì che stavamo lavando la moto, ci è venuta la brillante idea ragazzi, c'è lì stavo facendo la macchina al vicino Ci è venuta la brillante idea di prendere le bici tra un'oretta, mezz'oretta così e andare a farci un bel giretto Adesso vi faccio vedere come metto questo furgone esattamente, oh la CP246 car Comunque esattamente deve entrare qua dentro e andare laggiù Allora qua siamo praticamente pronti, abbiamo messo anche i guanti, l'unico problema è stranamente ho le gomme Sgonfie Allora la situazione è questa, questa si è gonfiata e mentre la mia Non si gonfia, non si capisce il motivo ma non si gonfia sta bici Sì, bene Niente, alla fine sta ritornando a casa mia e vediamo se riusciamo a gonfiare la gomma Ma la vedo molto dura Come la senti? Impressioni? È un po' traballante È un po' È una cosa buona Eh no ma infatti c'ho la chiave al blu Ah sì 118 Niente bici e la gomma non si è riuscita a gonfiare Quindi siamo qua a farci una bella passeggiata Al fine siamo qua che camminiamo, c'è un bel tramonto come potete vedere Molto carino Destinazione, un bar, prenderci un bel tè caldo e un caffè Let's go Siamo quasi arrivati a destinazione Ci troviamo qui Quei guantini Ed eccoci qua siamo ripartiti il viaggio della speranza verso casa Un'oretta di camminata e ci siamo Siamo arrivati in pista ciclabile e la situazione è questa Cioè non si vede un cazzo Infatti È dura, è dura Quasi arrivati a casa The next day Buongiorno Stiamo andando a fare il motocross Prima andiamo a prendere un mio amico e ancora prima facciamo un benzina Quasi arrivati in pista Ciao Buongiorno Si avvita dentro c'è la vitina che esce fuori Ma l'ultima ti vedevo carico Lui è carico Ciao Per gli autografi e gli incontri lo facciamo al bar Leggiù Uno Due Questo allenamento per l'abbi è troppo Mi faccio che ti vedevi Adria Vieni con me Vieni con me Che storia Oh via Voglio vedere ballare Io andiamo a ballare Stiamo molto tardi Ora Discoteca per dopo No quando volere No aspetta Stiamo con noi qua Che dobbiamo fare i meccanici Per catalinano 4-6 Mi piace Non è che si stacca Non è che si stacca Non è che si stacca Vabbè Se si stacca si stacca Tutti belli carichi Moto pulita E via Allora è un po' storto È un po' da regolare Però Calzino 1 o calzino 2? Calzino 2 Calzino 1 1 o 2 1 o 2 1 dai 1 dai 1 dai Come era quella roba che si dice Qui lavoriamo nella di precisione di precisione. Qui lavoriamo nella meccanica di precisione. E' bollì. E' pazzesco. E' una cosa fuori di testa. Guarda, non fossi già single mi filazzerei cos'è. Ma te ne ho ieri per montare le grafiche, ma che la meccanica... Poi io le so montare le grafiche, ma te le monto io le grafiche. Ti spiego... Ti immagino. Ti immagino. Ho baffuso la plastica. Hi. Ok. Infatti un po' tutti quelli che fanno grafiche sono un po' ladri eh. Ah beh. Perché se vai... Su noi raccontiamo, facciamo Mila e Ciro. il mio cuore dalla palla duro. No. Ma i guanti sono? I guanti sono? Il corsone? Quelli bianchi, eh? Minchia, io ho già fatto 30 minuti di mangio. dipinto di blu felice con te con un bebe vabbè adesso non esageriamo ho segnato di essere incinta però 20 euro non può essere incinta io solo ho chiesto con l'occhia non posso dire che ho chiesto qualche momento per agudire la voce non pensi non 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 oh è vero che sta solo quello che ti conoscito va bene 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 Foraccio, foraccio! Però non vedo un c***o! Let's go! Io lo mando a casa questo! Il mio amico ha grippato! Che è successo Samu? Niente, mentre stavo facendo una curva bella bella forte Andai troppo forte Andavo troppo forte e ho deciso di abbandonarmi E niente, qua sempre cambio manubrio a sto moto Io in tutti i video che ho fatto sono a cambiare manubrio Qui abbiamo un Samu Power sulla mia moto Che gas! Allora, com'è andata? Direi molto bene, molto bella, molto potente, molto aggressiva Però quello che conta è il pilota E che gas il pilota, mamma mia! Giornata finita, com'è andata? Molto bene! Eh? Abbiamo girato Eh? Abbiamo acceso le moto Ok Ho messo le prime Le seconde, le terze per andare avanti E anche la quarta Questa è la gas Senpai Faceva Questa è il soggetto che ho messo dentro No, adesso si va verso casa Sono... Distrutta Spero che il video ti sia piaciuto Se ti è piaciuto Ti chiedo di lasciare un like e un commento Di iscriverti al mio canale E niente, ci vediamo in un prossimo video Ciao